Oggi inizia un percorso di otto incontri che si chiuderanno il 31 di gennaio per termine ultimo per la presentazione della domanda per istituzionalizzare il Museo del Mar Piccolo da parte del Comune di Taranto. Noi siamo arrivati chiaramente a questa condizione grazie all'impegno di tutte le associazioni, le 12 associazioni che hanno condotto insieme a noi le attività. Le due dipartimenti dell'Università di Bari, Geologia e Biologia, quindi il professor Corriere e il professor Mastromuzzi, con cui finalmente siamo arrivati al termine degli studi condotti sul Mar Piccolo per la realizzazione di tutte quelle richieste fatte dalla Regione Puglia conseguente all'istituzionalizzazione dell'ecomuseo. Il nostro impegno sarà quello di divulgare, ma non solo alla città di Taranto, anche a livello internazionale, perché siamo in contatto con tante realtà che sono interessate a quello che il Mar Piccolo nasconde nelle sue acque e che quindi il nostro obiettivo sarà quello di rifonderlo il più possibile, soprattutto per offrire alla città di Taranto una giusta collocazione all'interno di un'importanza anche naturalistica del territorio. Grazie.